Ups a tutti, me che ripsime, psime, come, 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 come state? Fatemelo sapere, oggi sono qui, solo per voi, per registrare questo nuovissimo video che sarà pieno di tapping, perché oggi farò del tapping con le mie unghie, che non so se vedete, sono comunque cresciute un po'. Di qua forse si vede di più, e farò appunto tipo un video tapping with long nails, appunto, perciò direi subito, subito, subito di iniziare, indossa un paio di cuffiette, o cuffie più grandi, stenditi sul tuo letto, e magari prova a chiudere anche gli occhi, va bene? Io ho qui vari oggettini, vari triggerini, e direi quindi di cominciare. Ok, allora, devo sceglierne uno. Cominciamo con un classico, il più semplice che ci possa essere. Del tapping su un libro. Ho preso Regno di carne e fuoco, che sarà il prossimo libro che leggerò. Regno di carne e fuoco. Regno di carne e fuoco. Quindi abbiamo R, E, F, U, O, C, A. 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 Ok, posiamolo perché basta. Adesso ho qui un altro oggettino del sapone. e ci farei del tapping. E ci farei del tapping. completamente diversi. E ci farei del tapping completamente diversi. Onorevole gli, F, U, C, A, R. Bene. Adesso possiamo mettere l'alto narrazione delroz E facciamo un po' così. Un po' sulle mie ombre. Giusto, giusto. Mamma mia, già sto dormendo. Ok, 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 ok. Adesso ho qua un altro oggettino, ovviamente. Il mio portapoglio, su cui secondo me viene un tapping assurdo. Giusto. E niente, dentro non è che c'è molto. Qualche soldo, qualche scontrino. È la carta che uso per pagare di solito, quindi non è che ci sia tanto. Adesso prenderò un oggettino veramente, veramente particolare che spero che qualcuno di voi riconosca. Allora, questo qui, questo qui è l'album delle G-Idol. L'album I Fio, che è l'ultimo loro uscito. La versione Queen Card, appunto. Come ben sapete, io sono un super fan del G-Pop. E ho qualche album. Ho quello delle Blackpink, la versione Bornpink, quella col cofanetto nero con i dettagli in argento. Ho l'album degli Stray Kids Five Star, la versione Limited, mi sembra si chiami. Quella colorata, quella con la copertina colorata. Ho questo. E ho l'album I Have Hive delle Hive. La versione A, o la 1, non so come la chiamate voi. E ho in programma di comprare l'album delle Seraphim Unforgiven, versione 1 oppure versione A, dipende come lo chiamate. E l'album delle Itzy Give My Doubt. Giusto? Era così che si chiamava? Non mi ricordo tanto bene. Vabbè, mettiamo giù l'album. Io questi album li conservo proprio come delle reliquie. Adesso un classico. Facciamo un classico. Il tapping sul telefono. Non so se mi crederete oppure no, ma io vi giuro che quando non so cosa fare, prendo il telefono e faccio così. Pizzolo. 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 Leias? Ok, sono le 3 e 21 di notte attualmente e noi andiamo avanti a registrare. Quindi, 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 adesso, adesso prendo un oggettino veramente, veramente carino. Questo piccolo vasettino con l'acqua. E' un po' difficile da maneggiare perché è piccolina. Mi sto anche lavando. Non so da dove esce l'acqua. Vabbè. Grazie. Ok, adesso faremo del tapping sui denti, un po' così. Aiuto. E così sta. Ok, basta perché è strano. Vabbè, vabbè. Allora ci rimangono quattro trigger. Quindi direi di farli subito. Il primo è... Questa scatolina che dentro contiene uno stampino e della cera oro. L'ho presa a Vienna. Lo stampino ha il simbolo della corona. E pensavo fosse carina da usare. Magari per sigillare o per contrassegnare. non so, per esempio, gli inviti al mio diciottesimo. Ok, posiamola. Un altro classico sul mio canale che adoro. Questo bellissimo pezzettino di legno. Ho sempre voluto io un pezzettino di legno. E poi mi ricordo questo. Non l'ho neanche preso qua. L'ho preso nel paesino dove vado in vacanza, tutte le vacanze, in provincia di Caserta. L'ho preso nel paesino dove vado in vacanza. Ok, dai. Anche questo. Pasta. Ultimi due, 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 due trigger. La confusione della pasta con le perle tipo slime. Scusate se a volte mi vedete troppo serio nei video, ma io mi concentro un sacco. e infine ho qua l'ultimo trigger che è una custodia portocchiali. Però sentite che tappi. Tanta roba. Spettacolare. Lo metto via. Perché purtroppo è arrivato il momento di darvi la buonanotte. Spettacolare. Cucu. Cucu. Ora tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo. Per entrare a fare parte della Upsi community. E diventare un psino se sei un maschietto. Altrimenti un psino se sei una divencia. Poi, lascia un bel like di supporto per aiutarmi ad essere spinto un po' di più su YouTube. e se ti va commenta, va bene? Fammi sapere se il video ti è piaciuto. Il video di oggi finisce qua. Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio. Di qua il mio video precedente. Di qua quella mia playlist. Di qua il tasto per poter andare sul mio canale. e guardare qualsiasi altro video tu voglia. Ok. È arrivato il momento di darti la buonanotte. Quindi, prima, un grande bacio. Solo per te. E poi, buonanotte, buonanotte. Buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte.